la fate spesso? questa l'ho fatta anni fa anch'io un altro anno l'ho fatta da dove venite? da Binasco e la Chiarella ok diceva bella? molto bella bellissimo l'ambiente e il paesaggio col freddo comunque alzarsi è un dramma però quando sei qua ti rigenera avete notato che dal punto di vista ambientale c'è qualcosa che magari andrebbe migliorato? ambientale? si prima di arrivare abbiamo incontrato una zona malodorante in macchina vero? si all'altezza di poco prima di entrare in paese due chilometri prima ok immagino dove c'è stata qui no? ecco si la fuga ok invece adesso correndo qua qua è bellissimo è bellissimo si veramente bene bene vi lascio buona gara grazie grazie